siete una famiglia persone dinamiche questa è la vettura che fa per voi automatica benzina 140 cavalli motore turbo del nuovo tce con filtro antiparticolato di renault è la calciar ed è uno spettacolo cerchi a 19 pollici questo qui l'allestimento sport edition 2 e questo colore blu cosmo è veramente bello sensori di parcheggio retrocamera per dei parcheggi al top fari full led ovviamente fin di nebbia una calandra molto importante sistema keyless apertura e chiusura delle portiere con chiave basta tenerla in tasca per una sicurezza ancora maggiore vetri posteriori oscurati essendo un macchinone anche il grande bagagliaio con doppio fondo potete notare molto comodo anche tirando queste levette qui si abbattono i sedili posteriori in automatico interni pelle tessuto diciamo macchinone perché perché qui una famiglia anche tre persone alte sul divaneto posteriore saranno molto comode guardate i pannelli porta impianto stereo Bose su questa calciar il lusso è veramente di casa chiamateci per essere certi che la vettura sia ancora disponibile qui da noi e venite a provarla sedili anteriori riscaldabili bracciolo cromature ovunque pelle ovunque cucitura vista bellissime questa è una gran macchina questa è una mangia asfalto metri elettrici anteriori posteriori specchietti che sono anche ripiegabili oltre che elettrici sbrinabili tutti i comandi al volante sia del cruise control e viva voce bluetooth e i comandi della radio il cambio edc dire no e poi tutto il sistema multimediale navigatore satellitare autoradio ovviamente digitale specchietto interno fotocromatico soscura automaticamente oltre sensore pioggia per l'attivazione automatica tergi cristalli a seconda della intensità della pioggia volante in pelle accensione con tasto una console centrale molto ampia molto importante e allora cosa aspettate chiamateci veramente perché questo è un gran bel macchinone molto lussuoso molto rifinito è veramente quello che fa per te che cerchi un qualcosa di diverso ti aspettiamo